Si stanno abbattendo le casotte della Lancaiala sul fiume Ticino a Vigevano, per cui era scattata nei mesi scorsi l'ordinanza di abbattimento. Una vicenda tipicamente italiana in cui la burocrazia si contorce lasciando il cerino in mano all'anello più debole, in questo caso i pensionati che passavano il loro tempo libero in questi luoghi. Le casotte furono costruite tra gli anni 60 e 70 su un terreno demagnale da una società proprietaria di una vicina cava. Nati come locali di servizio, progressivamente sono diventati luoghi di piacere e affittati agli appassionati del fiume. Con la chiusura della cava nessuno ha più chiesto l'affitto a chi le occupava. Del resto la società che le ha costruite non esisteva più ed essendo totalmente abusive non potevano essere vendute regolarmente. Si è andati avanti così per decenni in un limbo che non si è mai provveduto a sanare. Semplicemente i comuni di Vigevano e Parco del Ticino evitavano di denunciare l'abusivismo. Fino all'ottobre 2019, quando la Lancaiala divenne campo base per le ricerche di un disperso. Alcuni carabinieri ritrovandosi qui non poterono far finta di non vedere e iniziarono l'iter che ha poi di fatto obbligato il comune a ordinare l'abbattimento. Non essendoci un proprietario il costo è addebitato chi le casotte le occupa, i cosiddetti conduttori. E così arrivati a 80 anni queste persone si sono ritrovate il danno di dover dire addio ai ricordi di una vita e la beffa di doverne pure pagare lo smaltimento. Il signor Nico e il signor Lino ci raccontano quanto costerà tutto questo. a seguito della denuncia dei carabinieri. In realtà definire le competenze non è così semplice. Già in passato ad esempio il signor Nico aveva avuto problemi legali per la sua casotta molto particolare, ricavata da una draga all'imbarcazione per l'estrazione del quarzo, poi messa in secca dopo una piena. Vent'anni fa però aveva vinto la causa. Ai tempi si era fatto avanti, il comune di Vigevano intimandomi di buttarla giù, di toglierla tutto, niente, mi sono fatto le mie ragioni e messo a tacere la cosa. In seguito subentra il parco del Ticino, mi sono fatto le mie ragioni e l'ha messa a tacere. Per tramite l'avvocato l'ha messa a tacere. Sono passati vent'anni se bastano, dico bene, vent'anni se bastano. I conduttori, che bene ricordarlo non sono i proprietari ma semplicemente gli occupanti delle casotte, hanno deciso di abbattere a loro spese, anche se non erano obbligati. Andando avanti con il procedimento e cercando di resistere, avrebbero rischiato una multa salata. Se non la butti giù a nostre spese, lo fanno loro, ti danno loro, minacciano con questa maniera, di darti una multa di 20.000 euro più l'abbattimento ancora e tutto quanto. ed è al che noi siamo qui. 20.000 euro non li paghiamo, è chiaro. Dopo quello che ci hanno intimato di fare e quindi stiamo smontando. Non facciamo niente per lucro, ma semplicemente per poter passare qualche ora delle ultime istanti della nostra vita, perché siamo gli sgoccioli. Allora, almeno per questo, perché a questo servivano queste casotte e a nient'altro. Alcuni anni fa è stata costituita un'associazione, Gli Amici della Lancaiala, con cui diverse istituzioni pubbliche e private hanno intessuto iniziative di tipo sociale, fornendo anche finanziamenti. L'associazione è completamente slegata dalle casotte, ma le attività si svolgevano proprio lì. L'espediente ha permesso a enti pubblici e privati di finanziare e patrocinare iniziative facendo finta di non sapere che le casotte erano abusive. Venivano le scuole, le scolareste venivano qua. Noi le spiegavamo a questi ragazzi con i termini non da professori o da maestri, ma bensì di termini normali, da uomo che ha vissuto, da gente che ha fatto l'esperienza sul fiume. La rabbia dei conduttori delle casotte verso il comune e in parte verso il parco potrà difficilmente trovare dei riscontri formali. L'accusa nei fatti è di ipocrisia, aver fatto finta di niente per decenni senza cercare una soluzione al problema, finché un'autorità superiore, in questo caso i carabinieri, ha tolto il velo a una situazione che per decenni si è fatto finta di non vedere. E' il primo comune, leghista, che si è scagliato contro le casotte, che ha intimato l'abbattimento. Bastava che ci chiamassero, invece che non si è neanche degnato di dire ragazzi, si degnavano di venire a fare ricche cene però.